Questo credo dipenda dalla pandemia, non credo. Io spero che si torni alla normalità e si voti a giugno, a maggio, a giugno, quando è previsto. Se ci sono le condizioni sarebbe bello non solo perché si torna all'ordinaria amministrazione ma soprattutto perché vorrebbe dire che abbiamo fatto altri passi avanti nel configgere la pandemia.